La battaglia continua, è ora che l'essere più potente che abbiamo visto fino adesso si è palesato, è il momento di vedere della vera azione e di vedere del sangue, mamma mia ragazzi, finalmente siamo entrati nell'era Majin Bra in Dragon Ball Multiverse, abbiamo messo un po' di tempo, non vedevo l'ora di arrivare a questo punto, ma siamo arrivati a quelli che forse sono gli scontri più interessanti fino a questo momento, almeno fino alle uscite moderne. Ragazzi oggi continueremo a vedere questo grandissimo scontro quindi andremo avanti con questa saga che durerà ancora qualche piccolo capitolo e poi si ricomincerà ovviamente con il torneo, detto questo direi che possiamo cominciare, prima però ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto perché questo è un canale legato alle serie, se non siete iscritti siete dei pazzi quindi iscrivetevi e in più vi ricordo anche che questo canale è sostenuto dal nostro negozio in cui potete trasformarvi nel vostro personaggio anime preferito, avete chiaramente il link in descrizione per i nostri poster personalizzabili, sappiate anche che tra poco ci sono le feste quindi mi sembra il periodo adatto per fare il vostro acquisto su Redocca, avete a disposizione il codice sconto youtube, ricordatevi anche che con 60 euro di spesa la spedizione è gratuita, in questo extra bit di promo e di intro direi che possiamo partire e partiamo da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Vediamo che fine ha fatto Babidi, difatti se vi ricordate Babidi era stato riportato nello spazio e aveva circa 10 minuti di ossigeno, ovviamente Bra l'ha portato via proprio perché si era resa conto che non poteva resistere contro tutti proteggendo Babidi contemporaneamente. Però attenzione c'è qualcuno che arriva nella barriera di Babidi ed è il nostro Majin Bu, in particolare lo Zen Bu, quello che ha assorbito tutto il suo universo, che dice a Babidi non ti preoccupare tu non morirai di asfizia, anzi non morirai puntini 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 di asfizzia. E poi la nostra attenzione si risposta sul torneo, sull'arena. La situazione ragazzi è complicatissima e vediamo che l'ultimo piccolo rimasto prende l'ultimo fagiolo di Balzar e lo porge verso il piccolo Cell Junior che sta accompagnando Majin Bu, dicendogli questo è l'ultimo quindi mi raccomando dallo a tuo padre, ovviamente Majin Cell. Bra vede questa cosa e con un colpo velocissimo fa esplodere completamente in una scena quasi gore tutto il corpo di piccolo. Il piccolo Cell Junior però fortunatamente riesce a prendere il fagiolo di Balzar e quindi si dirige verso suo padre che è in una condizione molto molto simile a terra sanguinante. Ma poco prima di riuscire a mettere nella bocca il fagiolo di Balzar purtroppo viene raggiunto da Majin Bra che con un colpo energetico colpisce sia il piccolo Cell Junior che Majin Cell in un colpo solo. Tra l'altro subito dopo Majin Bra si mette anche alla ricerca del nucleo di Cell, come sapete c'è sempre questo nucleo che sopravvive quando Cell prende dei colpi del genere, ovviamente lo trova e distrugge anche quello, di conseguenza anche Majin Cell se n'è andato. Nel frattempo visto che sono rimasti in tre, Gohan cerca di convincere ancora di più Majin Buu, ricordatevi che a Majin Buu è stato raccontato che Majin Bra sta tenendo in ostaggio Babidi, cosa che non è vero in realtà, e quindi cerca di convincerlo. Nel frattempo invece l'altra guerriera con l'armatura cerca di prendere del tempo, si toglie addirittura l'armatura e cerca di parlare a Bra dicendole per caso tu non sei in grado di mantenere le promesse perché avevi promesso che avresti salvato il nostro universo. Addirittura proprio perché si è tolta l'armatura dice a sto punto combattiamo in una 1v1 e tu togliti quella trasformazione, facciamo un bel combattimento senza cose che si aggiungono a noi, cosa che ha funzionato effettivamente con Bra contro Recold. Ma qua a sto punto stiamo parlando di Majin Bra, qualcosa di completamente diverso, infatti Bra non lo fa assolutamente, anzi rimane nella sua forma Super Saiyan di secondo livello e con un colpo solo massacra la guerriera. Ovviamente non solo tira questo pugno ma addirittura decide di utilizzare un colpo energetico anche questa volta di nuovo per eliminare l'avversario. Tra l'altro Bra si fa male accidentalmente facendo questo colpo e quindi Gohan dà ordine a Majin Bu di procedere. Majin Bu si lancia verso Majin Bra e decide di utilizzare il suo raggio per trasformarla in un dolce. Bra chiaramente evita il colpo e poi disintegra il corpo di Majin Bu che però ovviamente come sapete molto bene ha anche una struttura diversa da un classico guerriero che noi conosciamo e infatti utilizza i pezzi rimanenti del corpo per provare ad assorbire Bra. Ricopre completamente il corpo di Majin Bra ma ovviamente la ragazza riesce a evadere, riesce a potenziarsi a tal punto da lanciare via tutti i vari pezzi di Majin Bu e quindi Gohan utilizzando il teletrasporto del piccolo Cell Junior che è ancora nei suoi capelli prova l'ultimo colpo. Ovviamente Bra è più veloce, se ne accorge nonostante Gohan fosse dietro di lei, infatti prende il braccio e reagisce con un pugno. Gohan vola via ma vola tra le braccia di un altro personaggio che fortunatamente è rimasto ancora in vita, ovvero la Bra dell'universo 18, la Bra originale, quella che non ha mai studiato per diventare una guerriera. Quando vede questa scena Majin Bra inizia anche a prendere in giro la sua controparte della serie Ah non posso fare niente contro la mia controparte malvagia, ma compare il Kaioshin supremo dell'universo 1 che invece sottolinea questa cosa dicendo che cosa incredibile, una versione uccide il suo Gohan, l'altra invece prova addirittura a proteggerlo, che cosa strana ovviamente Majin Bra non vuole farsi prendere in giro e quindi buca letteralmente lo stomaco del Kaioshin. Il Kaioshin ovviamente in fin di vita domanda a Bra sei contenta? Lei dice certo che lo sono, sono così forte, vi ho battuti tutti da sola. Lei però dice eh lo so ma io pensavo potessi mirare un po' più in alto. Sai un combattente completo non è un combattente solo nel corpo ma anche nell'anima, invece tu hai deciso di essere una schiava delle tue paure. Appena sente queste parole Bra disintegra il volto del Kaioshin urlando al cielo dicendo che lei ormai è la numero 1, colei che riesce a controllare tutta la sua potenza. Ma ovviamente l'altra Bra reagisce e dice ma mi stai prendendo in giro? Dici di controllarti, dici di essere completa ma tu sei completamente inutile. E Majin Bra ragazzi è scioccata da queste parole. Parte quindi un litigio tra le due, Majin Bra ovviamente dice all'altra tu osi parlare con me, mi disgusti, tu non sai neanche trasformarti. E invece la Bra originale sapete cosa le dice? Io almeno sono pulita, io non sono una schiava di Babidi, addirittura mio padre ha avuto un briciolo di orgoglio ed è riuscito a non obbedire a lui alla fine. Tu invece sei una psicotica del cazzo, vabbè io del cazzo l'ho aggiunto effettivamente, però il litigio è proprio questo. Questo litigio però permette a Majin Bra di fare dei ragionamenti rendendosi conto che tutti stavano dicendo quella cosa. Addirittura il suo Gohan si era reso conto che forse Babidi è il più forte, più forte addirittura di lei. Per la prima volta infatti Majin Bra cade sulle sue ginocchia impietrita dalla paura, con l'altra Bra che dice evidentemente se sei diventato una serva completa di Babidi avevi veramente del grande male al tuo interno. Ma Bra, ovviamente Majin Bra risponde tu non hai idea di quello che ho vissuto io, tu pensi che sia tutto così semplice. Vediamo infatti un piccolo flashback, siamo tornati nell'universo 16, il suo universo di origine. Qua è una scena veramente disastrosa e a quanto pare c'è Bra che parla con suo padre Vegito. Vegito gli dice sei molto forte, ma io sono ancora molto più forte di te, ma un giorno probabilmente mi sorpasserai e prima che quel giorno arriverà io ti ucciderò. Questa cosa però non interessa assolutamente a Bra della serie, tu veramente adesso stai portando i tuoi traumi sul piatto per giustificare quello che stai facendo. Cosa vuoi? Vuoi un abbraccio? Tu vuoi veramente essere considerata la numero uno in tutto l'universo e non vuoi provare a passare a sconfiggere i tuoi traumi. Tu semplicemente sei una persona che si fa trasportare da queste cose, tu sei una passiva. Questa parola, unita ovviamente a tutte le altre che sono state dette nel corso del combattimento, sciocca Bra, Majin Bra, o forse dovrei dire solo Bra, perché questa rabbia cancella completamente il simbolo Majin e anche il controllo da parte di Babidi. Con Bra che si mette a piangere disperata. E questo capitolo, questo episodio ragazzi termina proprio qui. Ovviamente siamo arrivati agli sgoccioli di questa saga, nel prossimo capitolo ne parleremo meglio, però che scena questo discorso, questo dialogo tra le due Bra, veramente tanta tanta roba. Se vi è piaciuto questo episodio, se vi è piaciuta questa parte, vi consiglio di iscrivervi e di mettere mi piace, noi comunque come sempre ci vediamo prossimamente, o anzi domani, con un altro video come sempre a tema Dragon Ball. Quindi fate i bravi e ci vediamo presto ragazzi. Ciao a tutti.